Sono soddisfatto per questo convegno che tra le altre cose è la prima uscita pubblica del club per l'UNESCO di Campo Calapro-Costeriola a Spromonte che unisce i nostri territori in sinergia con le escellenze culturali e ambientali. Tra le altre cose partirà questo progetto di Dervitis, Bagnara finalmente è un itinerario europeo, il Consiglio europeo per i terrazzamenti e la Costeriola. Ci sarà istituito un laboratorio dove prenderanno parte tutte le forze professionali, locali, politici che comunque interagiranno con noi insieme al laboratorio dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Labromed, che grazie al direttore, al professore Calabro, sta attenzionando degli studi di settore e quindi presto presenteremo questo progetto a Bagnara. Io penso che oggi sia stata scritta una bella pagina qui a Bagnara, una pagina di collaborazione tra istituzioni, di collaborazione tra l'Università e il Comune, ma di collaborazione anche con il territorio, con i diversi soggetti che operano qui sul territorio, a parte il Club per l'UNESCO che ha promosso questa iniziativa, ma erano presenti diverse associazioni, diverse organizzazioni anche di imprenditori, professionisti. Tutti insieme possiamo lavorare a questo laboratorio di comunità che il Comune di Bagnara ha deciso di istituire e al quale lavoreremo fin da subito insieme a questo Club per l'UNESCO di Campo Calabro, Costa Viola e Aspromorte che con la giornata di oggi avvia questa nuova fase di attività.